l'intelligenza artificiale è l'argomento del giorno dello schiacciassi perché se ci sono utilizzi leciti doverosi utili per la comunità per la popolazione come quella dell'individuazione di nuovi farmaci o di nuovi materiali per l'industria ce ne sono anche tanti altri che possono vincolare in maniera estremamente pervasiva la vita e la libertà di ciascuna persona pensiamo semplicemente nelle sue scelte di libertà di movimento di scelte commerciali preferenze e quant'altro il rischio che da una forma di controllo blando si passi a una forma di controllo pervasivo e limitativo della libertà personale è molto forte ne passiamo in questa puntata dello schiacciassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici a tra poco dopo la sigla cari amici vicini e lontani bentornati alla nuova puntata dello schiacciassi da parte di stefano elena l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è la questione del giorno perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in molteplici utilizzi utili per la comunità per la collettività per l'umanità quando si tratta di scegliere nuovi farmaci trovare nuove combinazioni per quanto riguarda la produzione di materiali per quanto riguarda la facilità della vita però può anche avere notevoli ripercussioni sulle libertà delle singole persone soprattutto quando la intelligenza artificiale è connessa a forme di telecontrollo da remoto e tutta la popolazione ne sa qualcosa perché nelle città è un fiorire di telecamere di sistemi di videocontrollo complice anche la scarsità di forze di polizia fisiche presenti sul territorio e con l'avvento dell'intelligenza artificiale connessa alle forme di telecontrollo e a banche dati sempre più ricche ed esaustive c'è il rischio che questo incrocio dei dati sia estremamente pervegnante e soprattutto possa anche limitare le libertà personali delle singole persone uno dei casi più eclatanti è stato quello del recente caso di cronaca nera connesso con l'omicidio di giulia cechettin dove il l'automobile del suo fidanzato è stata ricco ritrovata grazie a seguire tutte le posizioni lasciate nel percorso stradale rilevate dalle telecamere grazie all'intelligenza artificiale connessa con un database delle targhe è bastato mettere e mettere il numero di targa dell'auto del Turetta per poter ricostruire tutti i percorsi che i movimenti che ha fatto in qui nei giorni fino alla sua cattura definitiva in germania questo può essere anche una attività positiva così come può essere positiva l'aver riscoperto a genova tutta una serie di veicoli che erano confiscati che non potevano circolare che avevano l'assicurazione e la revisione sospesa così come succede molto spesso volentieri anche nei controlli fatti sulle strade da parte delle forze dell'ordine e qua ci può stare una positività dell'utilizzo più pervasivo dell'intelligenza artificiale che può analizzare in tempo quasi reale una enorme mole di dati cosa che per la capacità umana sarebbe praticamente impossibile però i problemi nascono quando si supera quel leggero labile confine tra il diritto e la sicurezza delle persone della collettività e il diritto alla riservatezza delle singole persone che non dovrebbe essere intaccato più di tanto però il problema è che quando si circola con autovetture ma soprattutto anche quando si viaggia con un compagno ormai diventato presente onnipresente nelle tasche di ciascuno come il telefono cellulare si lascia dietro di sé una continua linea di segnali di quello che si fa dove si è cosa si è scelto cosa si è guardato sul browser del telefono chi si è chiamato che pagine di commercio elettronico si è guardato che preferenze si è scelto e quant'altro ebbene tutti questi dati qua che potrebbero essere insignificanti presi uno per se stessi però analizzati e raccolti in ingenti archivi che possono fare correlazioni tra diverse situazioni sono una mole enorme di dati che servono a chi fa marketing chi fa mercato chi deve vendere servizi prestazioni quant'altro per poter andare a offrire a ragione a botta secca la propri prodotti i propri servizi e probabilmente ciascuno si è accorto che quando si è sconsultato una pagina di un qualche prodotto di un qualche servizio dicendo poi immancabilmente per un po di giorni a seguire si si è stati bombardati proprio dalla pubblicità di cui è determinato tipologia di prodotto di servizio ricercato ma il problema è che se per caso si eccede in questa forma di controlli e di offerte sempre più pervasive dove le autorità di garanzia della riservatezza personale dovrebbero intervenire con maggiore determinazione perché fino ad adesso si è quasi fatti finta di fare un buffetto alle grandi realtà tecnologiche che gestiscono database e soprattutto in intelligenza artificiale c'è il rischio che chi si muove a bordo di automobili sempre più connesse con le reti digitali e soprattutto con le scatole nere che registrano comportamenti di guida per poter dare alle assicurazioni indicazioni sul proprio stile di guida velocità rispetto delle regole c'è il rischio che si possa incidere sulle libertà personali del singolo tant'è vero che sono sempre più spesso i cittadini che rinunciano ad avere vantaggi immediati nello sconto della polizza per quanto riguarda l'assicurazione piuttosto di dover dare alle assicurazioni stesse tutta una serie di notizie di dati che potrebbero anche alla fine essere un boomerang il problema fondamentalmente e qua l'abbiamo già visto un paio d'anni fa quando c'è stata la pandemia da covid i controlli rischiano di essere molto pervasivi e come è successo anche in cina di essere estremamente vincolanti per le persone per cui chi non si comporta in un determinato modo può essere sanzionato e può essere penalizzato da parte del organismo superiore lo stato il comune la provincia la regione e subirne le conseguenze e questo oggettivamente sarebbe una situazione di da grande fratello che ben poco colliderebbe con le libertà costituzionali soprattutto col diritto nell'animale delle persone ad essere liberi e non essere continuamente spiati da entità che sono estremamente pervasive perché basta poco per poterla sempre come si è detto prima lasciare dietro di sé segnali che raccolti uno dietro l'altro possono sembrare insignificanti ma possono costituire una interessante base per l'analisi dei comportamenti e delle azioni del singolo cittadino ecco da questo punto di vista sarebbe estremamente opportuno che ci fossero maggiori garanzie in confronti dei cittadini e soprattutto garanzie per cui uno quando si sposta quando agisce quando fa una determinata scelta non debba continuamente lasciare dietro di sé tracce segnali e vestigia di quello che ha fatto ne va della libertà ne va della trasparenza ne va soprattutto della sicurezza anche di ciascuno cari amici vicini lontani in questa puntata dello schiacciassassi termina qua prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti da parte di Stefano Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliate ciao